Bentornati a questa puntata di Instant Book con Natascia Abbattista, regista gravinese, pugliese, ma fermata sul panorama nazionale. Affamata. Affamata quello sempre, noi siamo sempre affamati, affamati né di fama né di soldi, semplicemente di quel minimo di visibilità che ti gratifica e di spazi. Natascia, dicevamo, educazione emotiva. Sì, educazione emotiva perché? Una pedagogia del sentimento e della fruzione. Si ha questa presunzione, vabbè c'è presunzione, magari fosse solo presunzione, in realtà ci sono tagli alla cultura. Sì, è un dato obiettivo. Obiettivo, si pensa che non sia così tanto importante insegnare storia dell'arte o educazione civica nelle scuole, di conseguenza io credo che le persone che nasceranno, se così continueranno i nostri governanti nel ridurre i fondi per la cultura, io credo che tra qualche anno... O nel ridurre gli spazi perché talvolta i fondi sono spesi malissimo. Ridurre gli spazi, ridurre cinema, ridurre gallerie, ridurre spazi per l'arte. Io credo che se non si educa il nostro corpo e la nostra mente all'arte e alla cultura, ci ritroveremo tra qualche anno a non avere più... in un paese più di merda di quello che già è. Certo, bravo. Noi stiamo per vedere un video, il secondo video che tu hai prodotto, ecco qui. Cosa stiamo guardando? Stiamo guardando The Signature, un video, un cortometraggio di 20 minuti prodotto da Intergea e da Stacano Film che ha collaborato. Diciamo fondamentalmente la produzione è Intergea con Terry Paternoster e Donato Paternoster. Non sono cugini, non sono fratelli. Sono fidanzati. Sono fidanzati. Donato è stato ospite qui ieri. Un cortometraggio che si ispira un po' a quelli che sono i canoni dei noir, del thriller girato in bianco e nero con secondo me una fotografia molto molto bella di Sergio Grillo e il montaggio di Mirella Rinaldi. C'è un po' di persone che hanno lavorato con me. Tutti pugliesi? Tutti pugliesi, ovviamente, chi sta a Roma, chi si è ritrasferito, chi... In questo andi rivieni costante degli artisti, degli artisti meridionali. Niente, di questo cortometraggio appunto ti racconto questa storia. Sì, raccontaci la storia. È un po' surreale, un po' inizialmente ci sono tutti i presupposti per essere un thriller, donna inseguita, bianco e nero, killer, freddo, glaciale e poi un ascensore come unica via d'uscita. Però succede una cosa. Killer e vittima... Non si sa. Ok, non raccontiamo. Dove lo troviamo? Dove lo vediamo? Allora, l'ho presentato proprio qualche giorno fa al Cineporto a Bari. Lo troveremo... È andata bene la presentazione? Sì, è andata bene, sono soddisfatta. Io mi scuso per non essere stato, non essere venuto. Lo so, ma anche tu sei impegnato, perdonato. E no, è andata bene. Voglio dire giusto due cose a proposito di questo cortometraggio. Prima si parlava di taglia, la cultura. Voglio ringraziare Intergea, perché anche per produrre cortometraggi bisogna investire. Cioè, nel senso che ci vogliono soldi. Qui c'è stato un budget di 5.000 euro, che è pochissimo, solitamente, o i cortometraggi. Tu hai girato in digitale? Ho girato in HD, sì. In HD. E ho avuto la fortuna di pagare tutte le persone sul set. Perfetto. E insomma, queste sono cose importanti. E quindi ringrazio anche Intergea per questo. Produzioni per il futuro? Allora, sto scrivendo tantissimo. Ho avuto la fortuna di fare un seminario sulla sceneggiatura che mi ha aperto a 360 gradi. Con chi e dove l'hai fatto? L'ho fatto a Bari, B-Fest. Un seminario gratuito, bellissimo, con Andrea Purgatori e Silvia Napolitano. Andrea Purgatori ha scritto Valanzasca, Dracula, Silvia Napolitano ha scritto per Alberto Sordi. E, diciamo, io scrivo le cose che realizzo e che produco. Questo seminario mi ha aperto ancora di più, quindi sto scrivendo un lungometraggio. Cioè, in realtà c'è già il soggetto, sto lavorando alla sceneggiatura e spero di girarle il prima possibile. Di arrivare a realizzare un film. Natascia, parlavamo prima delle difficoltà di far vedere le nostre cose, e portarle in giro perché i contenitori sono pochi e perché non si comprende talvolta che la videoarte, per esempio, potrebbe essere proiettata un po' dappertutto perché si presta anche a questo tipo di discorso proiettivo. Che so, in discoteca, per esempio. Oppure nei locali. Noi l'abbiamo fatto in passato, ti ricordo. Assolutamente, noi lo facciamo durante il Bari Pride nel 2003. Estate 2003 noi addirittura portammo in scena un piccolo... Sì, una riscrittura della metamorfosi di Kafka, non soltanto video, quindi mescolammo i generi. Ebbe successo. Sì, è vero. Ma sì, è giusto farlo. Ma era un momento di fermento culturale che adesso non c'è più. Io nel mio piccolo... Mi sono obitato 13 anni a Bari. Da un anno e mezzo mi sono ritrasferita nella terra natia murgiana, culla, un po' isolata da tutto il mondo, però forse proprio perché è isolata ti lascia spazio per riflettere, ti dà la necessità di creare a tutti i costi. L'utero verde di Puglia. Sì, è vero, è vero. Io sto notando questa cosa. Non a caso ho scoperto un universo, è un fermento artistico pugliese lontano dalla provincia molto molto bello. È strepitoso, io me ne accorgo frequentando la murgia, è davvero... Ed è sotterraneo. Ma forse perché si sente ancora di più l'esigenza di urlare, di creare, di imporsi, allora lo si fa in maniera più forte, quindi... O forse siamo di meno, e allora non lo so, però abbiamo fatto questa... videoinstallazione nelle gravine sotterranee, in un contesto, qualcosa di molto forte, si parlava fondamentalmente di infanticidio, di aborto, di sangue, era una cosa molto forte che lasciava riflettere. L'abbiamo fatto... Soprattutto i gravinesi che hanno assistito al dramma di Cicciettore. Bravo, bravo. L'abbiamo fatto in un contesto dove c'erano... era gratuito l'ingresso, come giusto che sia. Perché finanziati dall'amministrazione comunale? Purtroppo no, finanziati da noi fondamentalmente. Vedi, si ritorna sempre al dio denaro. Beh, chiederemo al comune di Gravina di cominciare a finanziare alcune di queste iniziative e di aprire quelle bellissime cantine, alle installazioni. È vero, abbiamo... sono proprio delle gallerie d'arte naturali. Sì, profondissime, profondissimi budelli dove poter assistere. Anche il cammino stesso, in realtà, è uno spettacolo per l'occhio. Voi a Gravina producete anche periodici? Ah, sì. Sì, c'è una ricca produzione editoriale. Uno dei miei editori è proprio di Gravina. Start, arte, cultura in miniature, un prodotto nuovo. Sì, allora, diciamo che questa rivista che ti ho portato stamattina, così, senza... Che è prodotto da Mandea... Allora, praticamente ti spiego. Moretti a secco. È un circolo Arci, di Gravina. Che abbiamo avuto qui ospite, Francesco Sossio. Perfetto. E abbiamo avuto l'esigenza di creare questa rivista totalmente gratuita, quindi nata con... Un free press. ...e stata realizzata con gli sponsor, che non parlasse di politica, ma parlasse solo ed esclusivamente di arte. Invitiamo, è distribuita comunque in tutta la Puglia, fondamentale. È nata, guarda, è nata da una settimana in realtà, eh. Ho in mano il numero zero dell'anno zero. Sì, realizzata da Mandea, che è Manuela Coluccino. Ci sono diversi articoli scritti da persone, da artisti. Infatti inviterò anche te a scrivere qualcosa. Lo farò volentieri. Ci sono anche nomi piuttosto importanti che si sono approcciati a scrivere articoli per l'arte, appunto. La troverete in edicola, probabilmente tra qualche mese anche tu. di questo fermento, questo fermento nella Murgia. Noi domani avremo ospite qui, una giovanissima grafica. Ah. Quindi sempre della Murgia, alla quale io porro la stessa domanda. Io sono molto romantica da questo punto di vista. Non è che avete vissuto troppo sotto la cappa del capoluogo? Non ce la fate più? No, io penso che la Murgia forse è esasperata, però alla fine Bari, sì, metropoli, però Bari, cioè... Metropoli di provincia, diciamo la verità, è una delle province dell'impero. Che io adoro, però Bari è fatta fondamentalmente anche di ricci, di cozze, di mare. E di birra peroni. Nulla, io penso che sia un fenomeno tipico del sud questo. La Murgia, io credo che sia una culla veramente, a livello geografico, isolata da tutti e da tutto. E quindi questa potrebbe essere anche una causa. Cioè la voglia di urla, io sento l'esigenza di... Cioè questo eccesso di isolamento, l'assenza di un mercato stimola in qualche misura a produrre, comunque, delle meditazioni. Però voi guadagnate le competenze fuori della Murgia. È più difficile portarsi, però farle vedere fuori. Sì, ma vi formate fuori. Sì. Vi siete formati fuori e talvolta rientrate. Noi abbiamo anche un territorio bellissimo, che è quello della Gravina, della Murgia. Non lo so, prima... Che fonte di ispirazione per te, per Michele Ardito. Sì, sì. E per l'iscrittore della Murgia. Io l'avverto, io l'avverto proprio. Ma ti dico che l'avverto anch'io. A volte ho anche uno shock quando da Bari raggiungo la Murgia, però perdendomi, passando per Cassano, Santeramo, quindi prendendo tutta la Murgia. È qualcosa che ti stringe dentro. È qualcosa che ti stringe, è qualcosa che davvero ti sciocca. Cioè hai un impatto emotivo molto forte. Immagino che viverci, crescere, formarsi in parte lì e poi magari venire a Bari, che invece è in piano, ecco, debba farti maturare delle riflessioni sulla tua terra di origine. Io sì. Non a caso, guarda, sono ritornata da un anno e mezzo a Gravina. In un anno e mezzo a Gravina, dove inizialmente avevo paura, perché dicevo Dio, sto ritornando in un posto dove sono scappata. Hai fatto tanto. Ho fatto tantissimo e non solo, ho anche incontrato e sono stimolata anche dalle persone che frequento. E che sono persone che frequento non occasionalmente, sono persone con cui condivido parecchie cose, con cui ci fermiamo, parliamo, discutiamo. E' bello, sono felice. Fate un club quotidiano di artisti a questo punto. Bene, Natascia Battista, noi ti ringraziamo, ovviamente invitiamo il pubblico a vedere le tue cose. Tu sei una regista, siete poche come registe in Italia e figuriamoci poi in Puglia. Ringraziamo, ti diamo appuntamento al pubblico a domani, alla prossima di Instant Book. Arrivederci. Ringraziamo, ti diamo appuntamento al pubblico a domani, alla prossima di QTSS.